Parliamo di un'iniziativa arrivata alla quarta edizione, il calendario della memoria. Si tratta di un'edizione particolare dedicata questa volta alle donne e al ruolo nella costruzione della nostra Costituzione e della nostra Italia. Sì, per l'appunto è un progetto, come si diceva, intergenerazionale, anziani e bambini. Noi lo realizziamo con le scuole e tutti gli istituti comprensivi della provincia che partecipano al bando che facciamo all'inizio dell'anno scolastico e quest'anno, appunto come si diceva, abbiamo deciso di dedicare il tema di quest'anno alle donne e soprattutto alle donne in politica, alle donne che per la prima volta si sono candidate nei consigli comunali della provincia, sono state elette in quei consigli comunali, hanno assunto ruolo di assessore o di sindaca. E passiamo invece proprio alla presentazione di questo calendario che ci sarà martedì 9 gennaio nell'Aula Magna dell'Università di Teramo. Cosa sarà questo evento? Ma niente, noi come ogni anno facciamo l'evento di presentazione per mettere insieme tutti gli alunni che hanno partecipato. Quanti ne sono? Circa 600 quest'anno, quindi l'Aula Magna che insomma saremo strettini nell'Aula Magna dell'Università di Teramo, metteremo insieme appunto tutti gli istituti che hanno partecipato, i dirigenti scolastici al quale va il nostro ringraziamento, tutti gli insegnanti che hanno poi lavorato insieme ad alcuni nostri esperti che sono arrivati in classe per animare e stimolare la discussione, l'approfondimento perché è stato necessario anche prendere dei documenti storici nei vari archivi, sia degli archivi comunali che negli archivi provinciali. Quindi abbiamo intenzione di dare spazio e voce ai bambini, agli insegnanti che hanno lavorato a questo progetto e poi ci sarà la novità di quest'anno è che lo SPI in collaborazione con la Funzione Pubblica e la Camera del Lavoro di Teramo regalerà a tutti questi bambini uno spettacolo teatrale dal titolo Musi Lunghi e Nervitesi della compagnia teatrale Il Pirata di Ghesi in provincia di Ancona. E anche dei fondi da destinare poi alle attività scolari. Sì, abbiamo ogni anno, questo è il quarto anno, che dedichiamo e regaliamo agli istituti che partecipano al progetto un buono per l'acquisto di materiale didattico. Ci sembra questo un modo concreto di fare solidarietà verso un ente, l'istituzione scuola, che è stata falcidiata dalle ultime cosiddette riforme dei vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni.